Fondamentalmente abbiamo quattro tipi di domande che possiamo fare ai tarocchi. Per quattro tipi di domande intendo quattro aree tematiche. Una che riguarda l'intelletto, una che riguarda le emozioni, una che riguarda il sesso e una che riguarda la materia. Nonostante il tarocco sia così immenso nel poterci fornire le risposte in diverse dinamiche della nostra vita, chi legge i tarocchi o chi ha letto i tarocchi in passato saprà benissimo che le domande si riducono. Tuttavia sempre ha due aree tematiche soltanto. La prima sono i sentimenti e la seconda è il mondo del lavoro. E va bene così. All'interno di questo video approfondiamo l'area sentimentale e ti dico anche che è possibile leggere i tarocchi sui sentimenti in due modi diversi. Primo modo, quello che riguarda relazioni, incontri, amicizie, situazioni di coppia e via dicendo. Esiste poi un secondo modo altrettanto illuminante, e non voglio dire più profondo, ma sicuramente diverso, per il quale ci occupiamo degli stati, degli stati, delle dinamiche che si muovono dentro di noi quando si parla di sentimenti e di emozioni. Non voglio nemmeno sottolineare che questo video parlerà della seconda via. Perché? Perché quando affrontiamo un discorso di autoconsapevolezza o anche consapevolezza con un consultante riguardo il nostro lato emotivo, non è sempre così facile, dato che esistono ben sei miti da sfatare. Cosa sono questi sei miti da sfatare? Sono semplicemente delle nozioni che nel tempo, da quando eravamo piccoli, 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 ci sono state consegnate dalla società, non solo dai nostri genitori, riguardo emozioni e sentimenti, quindi oggi noi rischiamo di cadere in queste trappole cognitive, stare male e non sapere nemmeno perché. Ma non ti preoccupare, c'è qui, zio Franci che ti aiuta, ti aiuta per tutto, sei miti da sfatare. Sei pronto? Iniziamo? Via! Il primo mito io lo chiamo uniformità. Che cosa significa? Cioè credere che la struttura emotiva sia uguale alla struttura psicologica. E questo è un errore mostruoso. Non siamo tutti uguali, quindi automaticamente non rispondiamo nello stesso modo agli stimoli esterni. Ma davvero secondo te un uomo che si mette a piangere deve essere necessariamente più debole di uno che rimane impassibile di fronte a tutte le situazioni di vita? Oppure una persona che magari non esprime i suoi sentimenti deve necessariamente essere anaffettiva? Assolutamente no, ma non lo dico io. Lo dice la scienza. Non esiste un circuito cerebrale standardizzato per tutti. I ricercatori hanno scoperto molti schemi differenti di reti neuronali nel nostro cervellino. Per non parlare della chimica e del metabolismo cerebrale. Quindi, quando vedi un compagno, una compagna, un marito e una moglie che non palesa, non esterna il sentimento come te lo aspetti tu, non è detto che non provi quel sentimento. Semplicemente risponde ad un input emotivo in modo diverso. Ah, il secondo mito da sfatare è buono e cattivo. Che cosa significa? Che noi crediamo felicità buona, tristezza cattiva. Ma chi l'ha detto? A meno che non esista una condizione patologica a monte, non c'è nel mondo emotivo buono o cattivo. Le emozioni sono quello che sono. Anzi, se vogliamo parlare di cicli naturali dell'essere umano, e l'avevamo visto pure qualche giorno fa con i principi ermetici, non puoi essere sempre felice, così come non puoi essere sempre triste. Sarebbe così innaturale la perenne felicità che non l'apprezzeresti nemmeno, perché non capiresti il suo valore. Da dove viene questa catalogazione? Dai tentativi, nel passato, dei nostri amici, dei nostri genitori, dei nostri insegnanti, di pompare la nostra autostima. L'autostima è sicuramente la pietra angolare della psicologia moderna, ma rifletti pure su un fatto. Tu davvero credi che un bambino silenzioso ed introverso abbia meno autostima di uno chiassoso ed estroverso? Assolutamente no! Anzi, se avessi l'opportunità di scambiare due chiacchiere con uno di quei bambini che di solito è sempre all'angolo, è silenzioso o apparentemente timido, noteresti che appena si apre, tira fuori un mondo di simpatia ed estroversione che è completamente alieno a chi mantiene perennemente un atteggiamento estroverso e socievole. Quindi, se sei una persona che sta passando un momento triste, non sentirti in colpa, è normalissima. Al limite, cercati una ricetta sulla zuppa di farro, ti metti alla finestra, guardi le foglie che cadono, ti godi l'autunno, ripeto, non sentirti in colpa, e va bene così. Mito numero tre, ed è il mito del controllo. Questo si legge molto spesso sui libri, si vede altrettanto spesso nei seminari e nei corsi, ed è il momento in cui ti viene detto che devi controllare le tue emozioni. Ecco, il concetto mi ricorda un po' la forza nei tarocchi di Marsiglia, quando le persone dicono controlla il tuo inconscio, ma come si controlla l'inconscio? L'inconscio non lo puoi controllare, automaticamente è un processo completamente sterile. Tu devi pensare ai sentimenti come fossero acqua. l'acqua deve scorrere. Se tu continui a pompare acqua, ma lei non scorre, automaticamente si carica, fino poi a creare danni. Eppure se non scorresse, è stagna. Non a caso, quando dei consultanti sul lato emotivo mi riferiscono, mi confidano che stanno per scoppiare, non è detto che devono necessariamente risolvere la situazione emotiva in sé, cioè quella che gli crea questo problema. L'importante è canalizzare queste emozioni e farle defluire. Può significare andare in palestra, guardarsi un film, frequentare un'amica, andare al cinema. Le emozioni devono defluire, i sentimenti devono defluire. Mito numero quattro, ed è quello della perfettibilità. E stami ben a sentire, perché se sei lanciato nel ramo spirituale, probabilmente sei vittima di questo mito. Ovvero bisogna lavorare in modo tangibile e materiale, oppure intangibile e spirituale, per perfezionare le nostre sensazioni, le nostre emozioni, il nostro lato emotivo. Al fine di vivere stati d'animo migliori, trovare il nostro equilibrio e via dicendo. Te lo debbo dire io? Ma te lo debbo dire io? È un lavoro sterile, perché le sensazioni e le emozioni non possono realmente essere perfezionate, così come non possono progredire. Sono emozioni, ragazzi. Ecco perché il lavoro che dovrai fare, con i tarocchi, ma con quello di cui ti occupi, può essere astrologia, può essere yoga, può essere meditazione, può essere quello che ti pare, non è il perfezionamento, la sublimazione di quella via, ma è l'autenticità. Quindi, più che un lavoro di miglioramento, è un lavoro di comprensione. Smettila di lavorare per essere una persona migliore, ma è migliore di chi? Devi essere migliore di te stesso, non dell'altro. Per essere migliore di te stesso, devi essere autentico, se no non hai un termine di paragone. Oh, il quinto mito, non sapevo se metterlo, perché è un mito importante, è anche scomodo di cui parlare, e ci parla della malattia emotiva. Tuttavia so che può essere utilissimo a molte persone, e comunque quello che divulgo poggia su nozioni scientifiche, e automaticamente, pam, te lo infilo nella lista. E il mito della malattia emozionale, ci dice che quando sei ansioso, rabbioso, triste, o depresso, sei malato. Allora, questo è qualcosa di completamente sbagliato, è un'idea che proviene dagli anni 30-35 del secolo scorso, in cui in massa le persone hanno iniziato a cercare un sostegno da parte di personale medico qualificato riguardo delle situazioni emotive. Quindi per la prima volta non si andava più dal medico per risolvere qualcosa di fisiologico, ma qualcosa di psicologico. E così i medici hanno cominciato ad etichettare tutto questo coacervo di disturbi emotivi come disturbo della personalità. E fin qui va benissimo. Quello che non va bene è che nel 1935-1936 le assicurazioni hanno iniziato a pagare, a restituire i soldi per questi trattamenti. E automaticamente i professionisti della salute mentale hanno iniziato a subodorare i guadagni. E quindi hanno spinto all'inverosimile l'idea che i normalissimi problemi emotivi che una persona poteva vivere nel suo quotidiano potessero essere una qualche sorta di patologia. E improvvisamente la gente è entrata in un'isteria collettiva. È un po' come quando ti fa male magari un dito e lo cerchi su Google. Cioè magari è sbattuto, diventa lebbra. Uguale, allora, la gente ha iniziato a entrare in questa isteria collettiva e per ogni minimo sentore o percezione di negatività o di disagio emotivo si rivolgeva al medico in quanto io sono malato, io sono instabile. Ma non è così. Oggigiorno i professionisti della salute mentale concordano con il dire che quasi tutte quelle situazioni che comunque ti portano a un disagio emotivo non sono malattie, non sono disturbi, non sono problemi medici fin tanto che non vanno ad alterare il normale svolgimento del tuo quotidiano, quindi le relazioni con la famiglia, il lavoro, la relazione che hai con te stesso, con la tua sessualità. Ciò che sto tentando di dirti è che la maggior parte delle situazioni problematiche che venivano etichettate come malattia mentale rientrano in quella che possiamo definire una normale gamma di esperienze e di sentimenti umani. E in tutto questo sto trascurando che una volta che esce fuori l'etichetta sei depresso, sei schizofrenico, sei abulico, sei apatico, è lì che nasce la malattia. È l'etichetta, è la categorizzazione che fa la malattia e non un normale disagio quotidiano che puoi sentire o provare. Passiamo al sesto mito che è quello del pensiero positivo. Se segui il mio lavoro sai che ne parlo moltissimo ed è abbastanza semplice il sesto mito, ovvero basta un pensiero positivo per strutturare in modo altrettanto positivo la nostra realtà. Questo ormai si sa che è sbagliato perché il pensiero positivo è per lo più un fenomeno transitorio che serve a tirarti su, a pomparti su sul momento, ma poi non produce alcun cambiamento reale. In realtà il pensiero positivo fa parte di quella che chiamiamo silver line thinking, ovvero il lato buono di ogni cosa, di cui fa parte anche il self talk, per esempio, quando fai delle affermazioni su te stesso ad alta voce, potenzianti, oppure quando visualizzi le cose. Ecco, quello fa parte del lato buono di ogni cosa. Incomincia a strutturare l'idea che nel mondo c'è molta positività. Tuttavia, se vuoi lavorare con questo lato di te, ovvero le sensazioni, i sentimenti e le emozioni, in riferimento al pensiero positivo, devi anche ricordarti che pensiero positivo non significa escludere ciò che c'è di male nella tua vita, altrimenti quello è un banale ottimismo. Anzi, significa riconoscere piuttosto che negare tutte quelle emozioni umane come l'ansia, il dubbio, la tristezza, e riconoscerle e capirle. Ecco, questo può portare alla creazione del tuo strato di mondo in modo migliore rispetto ad un veloce ottimismo che in realtà poi si dimostra sterile. Oh, quanto ti ho ottenuto oggi? Parecchio tempo. È per questo che ti saluto molto velocemente e che spero che questo video ti sia stato utile, però prima di congedarmi fammi sapere in quale mito cadi anche tu quando si tratta di emozioni o sensazioni. Sono sicuro che cadi in uno di questi miti perché purtroppo ingrobbano tutti noi, ovvero ognuno di noi è all'interno di una o più casistiche. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.